Dunque, questa lezione riguarda un fenomeno che è quello della nascita della polis. Cercheremo di capire che cos'è una polis, ci faremo un'idea per adesso soltanto generale, perché poi chiaramente approfondiremo tutte le questioni con le lezioni successive e i capitoli successivi del vostro libro. Quella che vedete naturalmente è la carta della Grecia. La Grecia in sé per sé è questa che sto indicando adesso con il puntatore. Qua abbiamo, vi ricordo, nella parte sud questa grande zolla che chiamiamo Peloponneso, che è una quasi isola, perché è attaccata alla parte continentale da questo istmo, cioè da questa striscetta di terra che corrisponde a Corinto. Oggi, quando andiamo a Corinto, vi dico questo, non vediamo questa terra in continuità, perché è stato scavato, tempo fa, un famoso canale, il canale di Corinto, per cui è stata tagliata la terra qui in modo da rendere navigabile questa parte di mare e far comunicare così con le merci il cosiddetto mare di Creta, questa parte qui, con questa striscia di mare che c'è, che separa la parte continentale dal Peloponneso. Quindi, questa è la prima curiosità che voglio dirvi. Il Peloponneso, che in greco significa proprio l'isola di Pelope, era una volta, un tempo, una quasi isola, quindi in realtà una penisola attaccata tramite l'istmo di Corinto, oggi invece è un'isola a tutti gli effetti, seppure artificiale. È interessante perché quando andate in Grecia, in vacanza, andate a visitare la bellissima città di Corinto, con i suoi anche siti archeologici, devo dire, notevoli, potete visitare il canale di Corinto, c'è un ponticello che è percorribile oltre che con la macchina anche a piedi, e potete farvi una fotografia o un selfie con l'istmo di Corinto, con il canale di Corinto, ed è una cosa molto bella che fanno in tanti. Qua sopra abbiamo quindi l'Attica, che è importante soprattutto per la città di Atene, poi lo vedremo, invece il Peloponneso è importante soprattutto per la città di Sparta. Poi abbiamo la Costellazione di Isolette, qua sotto, anche se non si vede in questa carta, c'è, vi ricordo, l'isola di Creta, nella quale ci siamo occupati un po' di tempo fa, prima delle vacanze di Natale, e tutta questa parte, che oggi è, diciamo, la costa occidentale della Turchia, si chiamava anticamente Asia Minore. Vi ricordo, ne abbiamo parlato la scorsa volta, che tutta questa area, durante il Medioevo Ellenico, di cui abbiamo parlato prima delle vacanze, che è quel periodo ampio, se ricordate, dal XII all'VIII secolo a.C., viene colonizzata dalle popolazioni micenee, e quindi la civiltà micenea ha, diciamo, istituito una serie di città nella parte della Grecia continentale, e altre è andata a fondarne in questa costa dell'Asia Minore. È interessante poi vedere questa parte qui, vedete, stiamo facendo una carrellata, che è la cosiddetta Troade, dove si trovava anche la città di Troia. Perché è importante? Perché voi che avete studiato anche un po' l'Iliade con l'italiano, sapete che le città micenee, le città micenee, fecero la famosa spedizione contro la città di Troia. Voi capite che al di là del discorso mitologico, è chiaro che dal punto di vista storico, questa area qui, questa area qui, era molto importante per i commerci tra l'Oriente e l'Occidente, come oggi diremmo, e quindi è chiaro che era un punto chiave da conquistare. Ecco perché le città della Grecia, tutti i greci che Omero chiamava gli Achei, fanno questa guerra contro la città di Troia. Noi abbiamo detto che non sappiamo se dal punto di vista strettamente storico la guerra di Troia narrata da Omero sia un evento storico in sé per sé, ma certamente c'è un grande fondo di verità storica. E lo sappiamo per certo soprattutto da quando il famoso archeologo dilettante Schliemann, Eirich Schliemann, sulla collina di Isserlich scoprì i resti della città di Troia, o quelli che credeva fossero i resti della città di Troia di cui parla Omero, e poi tante altre cose, Micene, Arco, eccetera, eccetera. Quindi da quel momento in poi, dalla mitologia, si passò a prendere anche un po' sul serio l'aspetto storico di queste vicende. Ecco, intanto concentriamoci sulla datazione. Il periodo di cui parliamo per la nascita della polis è l'VIII secolo. Diciamo a partire dall'VIII secolo. Voi direte, ma come si fa a identificare un processo storico con una data così ampia? In realtà, appunto perché si tratta di un processo e non di un evento, noi non possiamo indicare un anno specifico, chiaro? Noi dobbiamo indicare un punto di partenza. E come abbiamo visto più volte a proposito di argomenti che riguardano l'antichità, è difficile indicare date certe. Si dice sempre circa. Quindi è giusto dire, all'incirca, a partire dall'VIII secolo, noi abbiamo un processo, che è quello che porta alla nascita della polis. E a momenti vedremo che cos'è questa polis. Cosa succede dunque? Che si conclude il cosiddetto periodo del Medioevo ellenico, del quale abbiamo parlato nella precedente lezione. E noi cosa abbiamo detto? Che per alcuni storici il periodo del Medioevo ellenico è un periodo in un certo senso di decadenza. Noi per la verità abbiamo precisato che questa definizione, questa ipotesi, non è affatto certa, perché è anche vero che nel periodo del Medioevo ellenico in realtà noi abbiamo una civiltà che funziona. Il fatto di non avere documenti scritti, attestazioni scritte, non equivale a dover dire di necessità che si trattasse di un periodo oscuro, buio e di decadenza. Però una cosa è sicura, che nell'VIII secolo qualcosa si muove dal punto di vista economico, perché noi abbiamo una, vedete l'ho scritto qui, una forte crescita demografica. Che significa crescita demografica? Che la popolazione aumenta. C'è molta più gente che vive in Grecia. Quindi che significa? Se la popolazione aumenta, significa che in realtà muoiono poche persone. Quando è che la popolazione aumenta? Aumenta perché si fanno tanti figli, ma anche perché si è in grado di sconfiggere le malattie. E quindi avere più figli porta a un aumento della popolazione. Invece prima cosa succedeva? Si facevano tanti figli, però era anche vero che tantissimi morivano, anche in tenera età, e quindi la demografia non cresceva. Si formano quindi dei gruppi sociali nuovi, ma su questo entreremo nel dettaglio dopo, quindi non ve lo dico adesso. Ci sono delle migrazioni, fenomeno che già abbiamo visto con la prima colonizzazione, come dicevamo, vi faccio vedere quel processo che porta molti a trasferirsi, gruppi a trasferirsi, andare a fondare delle città nell'Asia minore. Poi vedremo che a partire dall'VIII secolo ci sarà una nuova ondata di migrazione. Siccome questa parte di territorio era già satura, si comincia a migrare verso un'altra direzione, che è la direzione del Mediterraneo, verso luoghi di cui noi siamo molto bene a conoscenza, perché noi viviamo ad Egrigento, Egrigento è proprio una delle città che possono essere considerate colonie, colonie greche. Poi abbiamo, quindi questa è quella che chiamiamo la seconda colonizzazione, e poi la cosa più interessante è appunto questa nascita della polis. La nascita della polis merita un approfondimento particolare. Che cosa è questa polis? Questa polis è, diciamo, una forma aggregativa, di cui adesso parleremo bene, che si crea nel momento in cui i piccoli villaggi che costellavano le campagne della Grecia cominciano ad aggregarsi con un fenomeno che prende il nome di sinecismo. Non so se voi ricordate, ma alcune lezioni fa, nelle lezioni precedenti, noi abbiamo parlato del fenomeno del sinecismo, no? Ne abbiamo parlato, per esempio, a proposito della popolazione e della civiltà ebraica. Il sinecismo è un fenomeno che consiste nell'aggregazione di gruppi piccoli in un gruppo più grande. Vi faccio un esempio più concreto. Prima ci sono dei piccoli villaggi sparsi per la campagna, poi le piccole popolazioni di questi villaggi scoprono che hanno tante cose in comune e si organizzano in una comunità unitaria. Ecco, questo è il fenomeno del sinecismo. Poi vedremo che questo sinecismo avviene anche grazie alla religione che funge proprio da collante sociale. Guardate adesso questa slide che ho preparato e soprattutto io ci tengo che voi vediate l'immagine, questo bellissimo disegno che ricorda un po' l'acropoli e fa vedere in parte l'acropoli della polis della città di Atene. Anche oggi lo potete visitare, mi riferisco a questa parte qui che studierete anche nella storia dell'arte. Perché questo disegno è interessante? Perché ci fa vedere un po' come era organizzato il territorio di una polis. La prima cosa che occorre precisare è che quando si dice polis non si intende città. Questo ve lo dico perché quando noi cerchiamo la parola polis per esempio su Google la prima occorrenza che risulta è la corrispondenza con la parola città. Cioè polis significherebbe città. In realtà non è così. Adesso vedremo per quale motivo. Fate molta attenzione perché questo concetto che sto per esprimere non è detto bene, non è scritto bene sul vostro libro di testo. E quindi fate particolarmente attenzione. vi chiedo anche di prendere se potete qualche appunto. La città, quando noi in italiano diciamo città, cosa intendiamo? Intendiamo il tessuto urbano. Cioè intendiamo un insieme di case, di strade, di edifici, di piazze, di incroci. Questa è la città per noi. Cioè se diciamo la città di Agrigento. Non intendiamo tutto quanto il territorio, le campagne dell'Agrigentino, la provincia, no? Ma intendiamo la città come tessuto urbano. Cioè fin dove arrivano i confini delle case e delle strade della città di Agrigento. Ecco, tutto questo non è valido, non equivale all'idea che invece c'era della polis. Polis non è città. Polis è una società che si autogoverna. Ecco, questa definizione la dovete prendere con grande attenzione. La polis è una società che si autogoverna. Non è una città, come vedete vi ho scritto qui, nel senso odierno. Cioè non è città nel senso del tessuto urbano. Sono le persone che contano per avere un'idea della polis, non tanto i luoghi. E questa è la prima cosa da chiarire. Ecco perché molti definiscono la polis una città-stato. Anche sul vostro libro c'è la definizione di città-stato, che per certi versi è una definizione corretta. Però il problema è che essendoci la parola città in questa definizione, inevitabilmente in italiano siamo portati a identificare la polis con il tessuto urbano. E se facciamo questo sbagliamo. Ecco, sul fatto che sia autonoma, sul fatto che sia uno stato, siamo d'accordo. Ma che sia una città, su questo non sono tanto d'accordo. È una società, una civiltà, una società, una comunità che si autogoverna. Naturalmente noi abbiamo diverse forme di governo e su queste forme di governo faremo poi degli approfondimenti con lezioni successive. Oggi lo accenno soltanto. Ora vi faccio vedere attraverso questo disegno le parti però anche strutturali della polis. Perché vero è che la polis è uno stato, una società che si autogoverna. Ma la polis ha anche delle parti fisiche. Ecco, in questo disegno intanto vediamo la parte alta. Vedete? Sulla cima di questa collina. Sulla cima della collina vedete, noi vediamo le tipiche colonne del Tempio Greco. Anche se questi non sono templi questo qui che sto indicando, sono i famosi propilei, cioè le porte, gli ingressi dell'acropoli. Ecco, tutta questa parte qui che si trova nella parte più alta del territorio della polis si chiama Acropolis. In italiano Acropoli. L'acropoli è il punto alto dove ci sono gli edifici a carattere sacro in particolare. Se noi abbiamo un po' l'idea della configurazione anche della città in cui viviamo a Grigento, capiamo che per esempio avete presente sicuramente tutti quanti voi la Valle dei Templi quando voi passate attraversate la strada che scorre nella vallata dei templi se volete guardare il Tempio della Concordia il Tempio di Giunone e così via cosa fate? Con gli occhi guardate verso l'alto perché? Perché i templi si trovano nella parte più alta cioè nella Acropoli ed è importante che questi templi rappresentavano l'identità della Polis e infatti il Tempio più importante era quello dedicato alla divinità Poliade attenti alle parole queste sono parole che sul vostro libro sono comunque specificate una divinità Poliade vedete che c'è la parola Poli Polis Poliade è una divinità a cui è dedicata la città vi faccio un esempio la città di Atene oggi capitale della Grecia di cui qui vediamo il disegno perché si chiama Atene? perché fu dedicata consacrata all'attea Atena e infatti il Tempio più importante che si trova sull'acropoli di Atene è il Partenone il Partenone è dedicato proprio all'attea Atena Partenos che significa Partenos significa Vergine perché la dea Atena era dea della Sapienza e della Guerra Giusta ed era caratterizzata anche dalla Verginità quindi la dea Vergine va bene? Atena Partenos questa è la divinità Poliade attorno al culto di questa divinità che si trova quindi al centro vedete qui nell'acropoli noi abbiamo a scendere vedete una parte che chiamiamo Asti vedete lo scritto qui Asti questa è la U non è U e non è I è una U la Y va bene? che si pronuncia se volete pronunciarlo bene pronunciando la I ma mettendo le labbra a formare una U quindi se voi mettete la bocca come se steste dicendo U ma pronunciate I vedrete che viene fuori il suono di I quindi Asti Acropolis è la parte alta lo ripetiamo dove c'erano i templi in particolare quello dedicato alla divinità Poliade poi c'è l'Asti nell'Asti abbiamo altri edifici sempre importanti vedete lo si capisce anche dalla dalla struttura soprattutto c'è l'Agora c'è una piazza mercato dove avvenivano le compravendite ma dove avvenivano anche le discussioni dove avvenivano anche diciamo gli scambi culturali tra le persone che vivevano in città dove si facevano gli affari va bene? e infine la Chora Ch si legge Ch Chora la Chora è tutto il territorio circostante che era quello dove si svolgevano le attività economiche in particolare le attività legate all'agricoltura all'allevamento ma anche la pesca eccetera eccetera perché poi dipende la città dove è collocata molte città della Grecia hanno un porto cioè sono collocate sul mare la città di Atene per esempio il famoso porto del Pireo ecco andiamo a vedere le forme di governo lo accenniamo soltanto e poi concludiamo questa prima parte questa lezione poi approfondiremo in lezioni successive noi dicevamo poco fa che la polis è una società che si autogoverna naturalmente appunto perché erano autonome queste poleis ah ecco ho dimenticato di dirvi che il singolare è polis ma il plurale è poleis l'ho preciso visto che voi non studiate il greco quindi polis al singolare poleis poleis al plurale ogni comunità determinava la propria forma di governo la sceglieva naturalmente è chiaro che le prime forme che sono quelle più legate alle costituzioni che c'erano nel medioevo ellenico sono quelle aristocratiche e oligarchiche aristocrazia la parola aristocrazia deriva da aristoi che significa i migliori i migliori e kratos significa potere quindi aristocrazia significa il potere dato ai migliori voi capite che è molto discutibile questa definizione perché chi fa chi lo stabilisce chi sono i migliori lo si stabiliva sulla base dell'appartenenza a un genos genos che qui vedete al plurale in questa parola che qui ho scritto gene vedete il genos è la stirpe quindi l'appartenenza a una famiglia essere i migliori significava che nelle proprie vene scorre un sangue ben preciso il sangue di quella famiglia le famiglie che hanno fondato quelle comunità quindi si parte dall'aristocrazia che diventa ovviamente un regime oligarchico perché poi man mano che cresce demograficamente la società perché noi abbiamo detto poc'anzi che la polis nasce in un momento in cui c'è una crescita demografica una crescita economica che determina anche una crescita della popolazione cioè una crescita demografica allora è chiaro che sono sempre di meno quelli che fanno parte degli aristoi perché quelle famiglie sono sempre quelle però nel frattempo ne nascono tante altre e quindi aristocrazia diventa anche oligarchia da oligoi oligoi significa pochi quindi c'è l'oligarchia quando sono pochi che hanno il diritto ad avere il diritto di governare quindi polis aristocratiche poleis aristocratiche poi ci sono poleis democratiche sono quelle in cui a comandare non sono gli aristoi ma è il demos attenti poi approfondiremo questo tema ve lo dico per adesso solo velocemente attenti perché demos non è popolo anche questo non è chiaro nel vostro libro sì demos significa popolo ma non è popolo nel senso odierno come polis non è città nel senso odierno anche demos non è popolo nel senso odierno perché oggi quando diciamo popolo intendiamo tutti cioè tutti coloro che vivono all'interno del territorio dello stato ma per i greci non era così perché il demos era costituito da quelle categorie di persone che pur non appartenendo ai ghene cioè a un genos cioè pur non essendo parte delle famiglie importanti delle famiglie aristocratiche però avevano raggiunto uno status sociale e una ricchezza tale da consentire loro di partecipare alla gestione e al governo dello stato della comunità questo è il demos comunque poi avremo modo di approfondire meglio questo discorso ma basti dire che per gli antichi greci esisteva l'istituzione proprio della giuridica della schiavitù e gli schiavi non facevano parte del demos le donne non facevano parte del demos i bandini non facevano parte del demos capite perché io vi dico che demos non lo possiamo intendere nel senso generico attuale di popolo perché se noi traduciamo demos con popolo abbiamo un'idea distorta fuorviante di ciò che realmente accadeva di fatto il demos non era il popolo ma era una piccola parte del popolo cioè quegli elementi della popolazione che avevano il diritto che si erano conquistati spesso col denaro il diritto di potere amministrare e governare la polis quindi per oggi concludiamo in questa maniera e poi continueremo il nostro discorso e l'approfondiremo con le prossime lezioni e vedremo che studieremo in particolare due costituzioni la costituzione spartana e la costituzione atenese per vedere i due modelli la costituzione spartana come modello oligarchico e la costituzione atenese come modello democratico e la costituzione